Come detto, archiviata una settimana condita da polemiche che nulla hanno a che vedere col calcio giocato dopo il caso degli insulti razzisti e addirittura delle minacce proferite sul campo della Sant'Angelo per lo United, è raggiunto il momento di riprendere contro il Sasso Maggiore il filo del discorso interrotto, quello di una squadra che stava viaggiando a vele spiegate alla conquista della zona play-off e che certamente poteva fare risultato pieno contro il fanalino di coda del torneo. Una maglia, quella che vediamo adesso, che prima del match viene esposta dai giocatori dello United per dare un segnale chiaro che col razzismo non è assolutamente il caso di scherzare, così come con lo United. 42esimo minuto, vantaggio firmato da Vassallo per l'1-0 appunto dello United, il raddoppio di basea 2-0 a inizio ripresa, grande prestazione ancora per la squadra riminese che ottiene il 3-0 al 55esimo con D'Antoni e poi la rete che sostanzialmente sporca solo il tabellino per quanto riguarda il sasso maggiore, firma Berti alla 69esimo, festeggiamenti assortiti, vittoria dello United.